Sono venuti quest'oggi a trovarci qui nei nostri studi, ragazzi dell'Admo di Macerata, per parlare di una bella iniziativa che si terrà domenica prossima in Piazza Mazzini. Qui con me ora c'è Eleonora Salvatori, responsabile appunto della sezione Admo della città di Macerata, con cui parliamo di tutto quello di cui vi occupate durante l'anno. Allora, Admo è l'associazione donatori di midollo osseo. Noi cerchiamo ragazzi che dai 18 ai 35 anni si mettano a disposizione per persone che in questo momento sono in attesa di un trapianto di midollo, persone che hanno problematiche del tipo leucemia, linfomi, milomi, malattie del sangue. Cerchiamo appunto ragazzi che vadano ai 18-35 anni, che abbiano un peso superiore di 50 kg e che godano di buona salute, proprio perché queste persone ormai sono arrivate all'ultima occasione. Perché se si arriva ad avere bisogno del trapianto di midollo è perché tutte le terapie fatte prima non hanno sortito molto effetto e quindi l'ultima spiaggia è il trapianto di midollo. Io purtroppo non conoscevo questa realtà fino a che non l'ho vissuta non proprio direttamente sulla pelle ma sulla pelle di una persona vicino a me, che ahimè non ce l'ha fatta e se n'è andata a 26 anni, quindi un'età molto molto giovane. Fino a quel momento io mi definisco una persona cieca e anche abbastanza codarda perché ogni volta che vedevo qualcuno che stava male e capivo, giravo la faccia dall'altra parte perché queste cose purtroppo spaventano, fanno paura. Poi quando ti capita, quando lo tocchi da vicino capisci che non puoi tenere gli occhi chiusi a vita, che non puoi girare la faccia dall'altra parte tutte le volte. È giusto che noi che stiamo bene, noi che stiamo fuori da una stanza d'ospedale, ci facciamo portavoci di un messaggio difficile, vero, ma che comunque è un messaggio di vita, è un messaggio di speranza. Abbiamo visto che con il Covid la donazione si è bloccata, mentre invece la richiesta si è alzata e quindi dobbiamo in qualche modo tornare ad alzare i numeri. Domenica 25 settembre, quindi a Macerata, spazio all'iniziativa Corriadmo, ne parliamo con un volontario, Matteo Balestrini. Che cosa succederà quindi in Piazza Mazzini a partire dalle ore 8 del mattino? Allora, a partire dalle 8 del mattino sarà possibile intanto continuare con le iscrizioni appunto a Corriadmo e la manifestazione, quindi ritirare la maglietta che già è disponibile online, quindi andando sul sito www.admomarche.it è possibile andando nel form di Corriadmo, selezionare la propria t-shirt, pagare tramite Paypal, eccetera, e prenotarsi la maglietta. Dopodiché, grazie all'ausilio della Polizia Municipale e del Comune che è stato super disponibile, sarà possibile effettuare un circuito di 3 chilometri, da ripetere per due ore, quindi dalle 9 alle 11, e questo circuito appunto sarà possibile percorrere per 3, 6 o 12 chilometri. Non è una gara competitiva, quindi chiunque può scegliere di venire a camminare o correre o fare una passeggiata giusto per stare in compagnia, e per appunto lo scopo di Corriadmo è sì quello di far divertire le persone, ma quello di esserci. Poi nel pomeriggio, dalle ore 16 circa, inizieranno gli spettacoli di alcune società sportive maceratesi, ne abbiamo contate circa 18, che sinceramente non sto a elencare, se no non finiamo più. Saranno presenti anche tutte le squadre di pallavolo, rugby, calcio, eccetera, della città, che hanno scelto ormai da anni di essere sponsor etico, quindi ci saranno anche testimonianze, ci sarà Ivan Cottini, darà anche lui il suo contributo per la buona riuscita. Ovviamente sarà ancora migliore se parteciperete tutti, abbiamo l'intera piazza a disposizione, cerchiamo di riempirla al meglio.